1,2,3, 5 mani in piedi, entro, 1,2 da dentro, ora non vi preoccupate della mano, pensate la destra arriva a un punto che arriva in contatto per forza con il bicicletta della danna, lo prendo e vado sulla spalla, lascio la sinistra, base, 2 giro, 1,2,3, 5,6, 7, 8, entro lì, 1,2 da dentro, do il giro, 5,6, 12, base, 4, 1,2,3, a destra, non lascio più la sinistra, a destra, ma io ho il giro con tutte le mani sopra, ok, ora, vado per la spalla, tieni, prendo e faccio il piano, vado a fare un giro a destra, 1,2, a terra a destra, allora, 1,2,3, il doggio giro, su tutte le mani, e gli dico, tieni, tieni, ok, e intanto faccio, vai di sinistra, giro con il destra, tieni, fa la canestria, ora, occhio qui, la sinistra scende, la destra va dietro di mezzo, e siamo in grossa di mezzo, la prima più sulle mani, 1,2,3, 5, sulle mani, ora, come tiro sulle mani, non devo avere decisioni di fare il piede, subito, 1, avanti sinistra, do la destra e dietro, 2, perno destra, vai per sinistra, 3, giro sinistra, la destra va dietro di mezzo, ora, da qui, non fate, occhio, non mi fate prendere la posa delle braccia, non la metto attorno, 5, con la destra, piglio la mano e la metto, eh, piglio la mano e la metto, eh, piglio la mano e la metto, questa dà la guida, e dai giro, la destra, arriva a prenderla da sola, a basso, ok, sicurate bene le braccia, 1,1,2, se invece pensate, è se dovete girare, entro, dentro, non fate l'intervento, invece, quando se vi gioco con le mani, bisogna farvi vedere, 1, entro, da lei, vai e a, ok, dai,